in librerie casa editrice è arrivato anche in questi giorni l'estate di Achille di Davide Buzzi che è una storia ambientata a Milano con due piani temporali uno negli anni 70 dove una grandissima promessa della musica in qualche modo si perde e nella storia invece nel piano temporale degli anni 90 corretto ci troviamo questo bravissimo clochard una musica che canta in maniera straordinaria e il protagonista va via via a scavare nella sonora autore musicista e anche qui ci sono una serie di elementi in più c'è una playlist musicale via dicendo l'estate di Achille a chi non si ascoltare